Noi ritengo che si è stato fatto ben poco, perché poi in realtà su tutti questi problemi che riguardano la manutenzione, ordinaria o straordinaria, se ne parla solo ed esclusivamente il giorno dopo che cade un cornicione o il giorno dopo che un tombino si blocca e una famiglia rimane intrappolata da dentro. Questo è un paese che non vede la manutenzione come un valore, ma lo vede solo come un qualcosa che deve essere invocata e il giorno dopo che succede la tragedia. Poi gli altri 364 giorni non interessa niente a nessuno. Voi che avete però ovviamente un occhio vigile su tutta l'Italia, su tutto il paese, evidentemente forse questi problemi, questi controlli sono stati trascurati in passato. Sì, intanto è un problema di controlli sicuramente, è un problema di risorse pure, ma è un problema di sistematicità, perché se noi diciamo che in un anno si mettono a posto tutte le scuole di un singolo territorio, diciamo una cosa inesatta, non credibile. Penso che dovrebbe essere fatto un programma, perché se poi tu fai un programma anche pluriennale e poi lo rispetti, ne veniamo a capo. Tanto non c'è la possibilità di chiudere tutte le scuole o di concentrare risorse solo su una parte d'Italia. Serve di programmare la manutenzione, è il deficit di questo paese. Questo problema si collega anche se indirettamente alla ricostruzione, che è in atto in Abruzzo per il post terremoto, terremoto, all'Aquila soprattutto si sta ricostruendo una città e ci sono comunque anche lì dei problemi. Intanto diciamo che all'Aquila, già essendo un po' più antico il terremoto, sono riusciti ad avviare le macchine. Il problema è che con questo secondo terremoto, quello di Amatrice, di agosto di due anni fa, in realtà sembrerebbe che tutte queste procedure che avrebbero dovuto semplificare in maniera trasparente, parlo della cosa più banale, la rimozione dei detriti, non abbiano funzionato, perché di qualche settimana fa queste foto aeree, dove sembra che i detriti siano tutti esattamente in sito dove stavano due anni fa. Sta funzionando la ricostruzione all'Aquila secondo lei? Allora, tra aspetti positivi, aspetti negativi, tra luce e ombre, io penso che ormai la ricostruzione dell'Aquila si sia avviata. Penso che tra il terremoto dell'Aquila, il terremoto che c'è stato in Emilia-Romagna, erano tutte esperienze per correggere, per addrizzare l'obiettivo da utilizzare in questo nuovo terremoto, però sembra che in Emilia e all'Aquila tutto è partito e qui non è partito niente. Al netto del fatto che Errani, che il commissario ha abbandonato, io temo che da qui a qualche mese, quando il tempo sarà inclemente, ne vedremo delle brutte purtroppo.